ha 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 prego che cos'è? prego prego una mela e c'è anche l'altra l'altra? sono a metà? a così proprio con la musica? brava Sambrino, hai mai capito? qua siamo tra donne la regista è donna hai trovato l'altra metà finalmente la vita mi ha tolto ci ha messo tanto ma mi ha dato quello che ho sempre desiderato il vero amore a 60 anni e questo amore mi ha dato proprio la famiglia mi ha dato anche due bambini che abbiamo preso in affido Sebastian e Rebecca quanti anni hanno Sebastian e Rebecca? 11 e 6 anni e Rebecca fa la ballerina fa la ballerina Rebecca? fa la ballerina quindi donne non bisogna mai arrendersi vedete? cioè ci ha messo tanto ma finalmente è arrivato proprio il vero amore l'unica persona che amo veramente in assoluto senti so che è molto schivo ma il nome almeno? Marco perché Marco si e gli altri no? perché Marco è proprio l'amore è lui io ho aspettato tutta la vita lui io non ho passato io sono presente e futuro lui cioè noi ci stavamo cercando ci siamo trovati e eccoci vi sposerete? ci sposeremo augurissimi allora dai Sabrina ci sposeremo c'è Rossella che dice che è bello vuole sapere tutto Rossella poi nella signora Rossella è un'ambasciatrice del pubblico augurissimi è un uomo d'altri tempi è un uomo meraviglioso io dico che hanno buttato lo stampo non ci sono uomini come lui quindi le persone siamo veramente questo assolutamente e questo ha portato poi anche loro ha portato anche loro Rebecca Rebecca Sebastian e poi c'è Pamela e c'è Marco e la tua nuova famiglia questa rappresenta questo rappresenta proprio la mia famiglia che poi Sebastian e Rebecca io anche qua me l'hanno regalato il mio compleanno il 26 novembre il bambino e la bambina eccoci qua siamo noi senti una scelta anche un po' criticata possiamo dirlo come a 60 anni vuoi fare la mamma ma la mamma non ha età quindi io sono una donna forte in salute faccio le corna e quindi lo stesso il mio compagno Marco quindi noi siamo felicissimi siamo innamoratissimi siamo proprio innamorati di noi noi siamo innamorati di noi ecco questo e io voglio difendere la mia famiglia i miei figli da tutto e da tutti proprio assolutamente infatti noi vivremo tra l'America e la Francia proprio per tutelare la mia famiglia perché scusa Pamela perché devi lasciare l'Italia? vabbè non la lascio definitivamente tornerò però ma perché dice America e Francia? perché non puoi vivere la tua catena? vogliamo girare ma per una scelta vostra una scelta nostra certo senti io sono mamma di due bambini e e quindi mi puoi capire ma guarda è una frase che non amo dire quindi però una cosa l'ho capita è che i figli l'unica cosa che vogliono è l'amore e il tempo della mamma esatto loro ce l'hanno? loro ce l'hanno e allora sei una mamma bravissima grazie perché ogni tanto ho letto qualche commento sui tuoi social si sai purtroppo i social lasciano il tempo che trovano attaccano anzi purtroppo tanta gente non ha nulla da fare prende scrive fa hanno attaccato anche appunto i miei figli e questa scelta l'amore non deve essere assolutamente criticato è la cosa che veramente ci rende forti e io sono così felice orgogliosa di avere questa famiglia la difenderò con le unghie e con i denti assolutamente e fa bene anche perché è una cosa che hai sempre sognato di creare ho sempre sognata ti faccio vedere un'intervista a sottovoce da Gigi Marzullo un po' di tempo fa le manca qualcosa in questo momento in questa stagione della vita? sicuramente mi manca una famiglia che comunque quando tu hai una famiglia sei anche più forte vorrei dedicarmi a qualcuno che non sia noi in questo momento in questi ultimi dieci anni mi sono occupata dei miei cani che amo tantissimo però è giusto che magari una donna faccia anche dei figli si dedichi a un marito o a un compagno o a dei figli Hai mai pensato che quella famiglia tanto desiderata non l'avresti mai avuta? Beh a un certo punto visto che non arrivava ho detto vabbè ormai e invece quando meno te l'aspetti eccoci infatti io Marco ti ringrazio davvero te lo dico pubblicamente te lo dico tutti i giorni perché tu sei un papà meraviglioso davvero mi hai dato tutto quello che ho sempre desiderato ti amo da morire io rinvitateci al matrimonio però eh abbiamo da morire i nostri figli grazie 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 grazie